Rieccoci tornati, buonasera, bentornati. Bentrovati con gli amici di sempre, al quale diamo subito un saluto a Tom Bosco, ti vedo già bello pronto, come stai? Bene, bene, lunga vita e prosperità a voi e a tutti quelli che sono con noi in questo momento. Fantastico, e poi abbiamo un inedito Adrian nel verde, dipinto di verde, come stai? Sto bene, diciamo che sto bene, ho un po' di mal di schiena e due webcam, quindi non so dove guardare, però ci proviamo. Bene, 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 quindi col doppio studio in virtuale, mi piace. E poi come al solito gli abbonati, i veterani, i fedelissimi di questa trasmissione bimensile, bimestrale, come si dice? Due volte al mese comunque. Bimensile. Una sì, una no per gli amici, eccolo qua. Il lunedì sera, con il tema macro tema tartaria, è un sacco di sfaccettature. Stanno facendo molto, molto, molto parlare i nostri incontri e sono un po' degli spunti di ricerca. Quindi con questa filosofia che noi li andiamo a organizzare insieme, il bello è che ognuno sa che l'altro sta preparando un qualcosa e spesso scopriamo anche in puntata, per esempio, la ricerca di Tom, che cosa ha ricercato Adrian. E ci facciamo delle domande, ci poniamo dei dubbi e riusciamo a capire quello che è accaduto, così che capiamo anche quello che sta accadendo. Quindi andiamo subito da Tom e partiamo con l'argomento di questa sera. Sì, l'argomento di questa sera, dunque l'argomento, per lo più mi sono occupato degli incendi, ecco mettiamola così, visto che era una cosa da lungo tempo attesa e dovuta, mi sono occupato degli incendi e ragazzi è un argomento vastissimo, perché se dovessi elencare soltanto il numero di grandi incendi che ha interessato grandi centri urbani in tutto il mondo, cioè ragazzi ci perdiamo ore e ore solo per questo, ma io mi sono concentrato su quelli che a mio modo di vedere sono i più importanti e o i più interessanti. Allora, partiamo, intanto condividi, condividi, condividi schermo, condividi schermo, ecco qua. Allora, quindi quello che andrò a discutere è una cosa tutto sommato molto così, è appena un assaggio, ma l'argomento è molto vasto e direi che comunque si può partire da questa famosissima frase di Orwell, che secondo me ha molto a che vedere con quello di cui andremo a occuparci e di cui ci siamo già occupati e di cui ci occuperemo, ovvero sia che chi controlla il presente controlla il passato, chi controlla il passato controlla il futuro. E direi che nulla potrebbe essere più vero di questo, alla luce proprio di quello che sto scoprendo. Io, tra l'altro, è una ricerca molto impegnativa, non tanto e non solo per la vastità dell'argomento, quanto per il fatto che appena vado a cercare di approfondire una cosa, poi ci sono i collegamenti con un'altra, allora mi perdo subito a cercare quell'altra e poi però in quell'altra c'è un'altra cosa che mi rimanda a un'altra ancora. Comunque, adesso parleremo un po' dei grandi incendi, questo per esempio è il grande incendio di Londra che è avvenuto nel… già questo, notate la data, notate la data. La data è il 1666. Ora, quando ho notato… questo credo che sia, non certo il primo, basti ricordare anche il grande incendio di Roma attribuito a Nerone, Ballevarie, ma comunque questo in epoca relativamente moderna è uno degli incendi più famosi che la storia ricordi. Come dicevo, ho notato intanto la data, 1666. Ora, ricorderete che abbiamo già toccato un altro argomento sul quale peraltro sto scoprendo sempre nuove conferme, sto trovando nuovo materiale, mi riferisco ai mille anni fantasma, cioè al fatto che i nostri calendari, ai nostri calendari in un periodo non meglio precisato, ma che comincio a identificare intorno al 1500-1600, quegli anni lì e quindi di fatto togliendo l'uno diventerebbe il 500-600, comunque 1666 questo grande incendio. E quindi non ho potuto fare a meno di pensare che togliendo l'uno viene fuori una data piuttosto interessante, se fosse davvero il 666, no? Credo che converrete con me. L'incendio ha devastato praticamente tre quarti dell'intero centro abitato, secondo le cronache. Questa è la cattedrale di San Paolo, o San Pola, a seconda di come la volete chiamare, che è stata una delle cose scomparsa a causa dell'incendio. Non ho potuto fare a meno di notare, per esempio, un'architettura che conosciamo piuttosto bene. Questa è una stampa che mostra la stessa cattedrale dopo l'incendio. E questo è uno scorso, credo che questo sia l'edificio che appare al centro, credo che sia la borsa o comunque la specie di stock exchange, vediamo cosa c'è scritto, Royal Exchange, quindi era l'edificio che si occupava degli scambi e che adesso comunque anche questo non esiste più. Perché mi ha colpito questo? Insomma, non ho potuto fare a meno di notare che comunque questo scorso della Londra pre-1666, o a seconda di come la volete vedere, del 666, vedo delle architetture che non mi sono nuove, mettiamola così, mi ricordano qualcosa, capisce a me. Qui cosa abbiamo? Ah, l'incendio di New York del 1835, mi sembra. Anche questo è interessante, anche perché ho trovato fra le descrizioni di tutti questi incendi, sempre dei tratti comuni, cioè la narrativa dice che l'incendio è nato in una cantina o in una casa, la casa di un fornaio, la casa di un tabaccaio, una volta, per quel che riguarda Boston, ci arriveremo fra poco, era un magazzino. Comunque praticamente tutti questi grandi incendi nascono, partono da un focolaio principale e chissà perché nel giro di un altro tratto comune, che le fiamme arrivano al tetto, poi dal tetto attraversano una strada, vanno a colpire i tetti vicini, eccetera, eccetera, eccetera. E questo spiegherebbe questi incendi che poi sono sempre stati, sempre un sacco di strane casualità, diciamola così, tipo i pompieri che in quel momento, adesso cito a memoria, i pompieri che in quella particolare evenienza erano, il personale non era al completo, una volta si accorgono il ritardo dell'incendio e poi quando vanno a spegnere lo vanno esattamente dalla parte contraria. Sembra un po' quello che raccontano dell'11 settembre, no? Bravo! Quelli che erano nelle esercitazioni, quelli che non erano preparati, chi non pensava fosse la realtà, lo schema è quello lì. Bravo, è esattamente lo stesso pensiero che ho avuto io, già, bravo. Questa dovrebbe essere Hamburgo nel 1843, se non sbaglio. Questa è Chicago, se non sbaglio, un grande incendio di Chicago, uno dei più grandi della storia degli Stati Uniti, che anche questo ha praticamente distrutto quasi tutto. E ricordiamo perché ho scelto queste città. Ma ripeto, io ho un sacco di cartelle con il materiale che mi metto via, ho provato a fare una prova, siccome in ognuna di queste cartelle ci sono delle foto storiche che mostrano architetture che a guardarle con occhi diversi ci dicono molto più di quanto appare, e ho scoperto che praticamente per ognuna di queste città, ognuna di queste, chi di più, chi un po' meno, però hanno tutte, e tutte a parte l'esempio di Londra, la stragrande maggioranza di questi incendi, guarda a caso, è avvenuto nel XIX secolo, nel 1800 e qualcosa. Questo è del 1800, in grandi incendi, si causa, non ricordo male, 1821, tra l'altro questo è un edificio che non andò distrutto, questo non c'entra in realtà, l'ho messo soltanto perché anche questo, che è un grande teatro, il teatro Turquois, qualcosa del genere, non è andato distrutto durante questo incendio, però anche questo teatro, può succedere ragazzi, può succedere, adesso non voglio dire che tutti questi incendi sono un complotto, non lo sto dicendo però, curiosamente mi ha colpito il fatto che anche questo teatro adesso non esiste più perché è stato distrutto da un incendio, e non ho potuto, mi ha colpito questa foto perché insomma, guardate l'architettura, guardate le dimensioni soprattutto della gente, mica male però, mica male questo teatro, comunque questo è Boston, ecco la cosa che mi ha colpito, questa è una stampa che mostra appunto il prima e il dopo, Boston 1872 se non ricordo male o qualcosa del genere, la cosa che mi ha colpito è questa, che nella descrizione, nella narrativa ufficiale, si dice che la propagazione dell'incendio è stata, a parte le solite circostanze, è partito da uno scantinato oppure è partito dalla casa di uno che aveva dimenticato, che ne so, il forno acceso, lo faccio per dire, tutte le narrative che ho trovato sono molto molto simili, ma qua, perché ho scelto questa stampa? Perché nella descrizione di questo incendio, si dice, è l'incendio, dunque questa stampa fa riferimento, credo a Boston, scusate, se l'ho detto Chicago io mi sono sbagliato, questo è l'incendio di Boston e quello che mi ha colpito leggendo appunto la descrizione degli eventi, al di là delle solite strane circostanze avverse, chiamiamole così, senza nessuna correlazione, come va di modo a dire oggi, si diceva che l'incendio, la propagazione dell'incendio in tutta la città è stato favorito dal fatto che Boston era, diciamo così, era costruita con vie molto strette a causa di un regolamento urbano non particolarmente stringente, per cui le case erano molto vicine l'una all'altra e questo attraverso i tetti ha favorito la diffusione dell'incendio. Andatevi a vedere la descrizione e vedrete che quello che sto dicendo corrisponde esattamente al vero, almeno a quello che dicono loro. Però io vedo questa immagine, l'immagine a sinistra non mi dà l'idea di una via particolarmente stretta e angusta, non so a voi cosa sembra, ma al di là anche qui di architetture particolarmente sofisticate, ma non mi sembra di vedere una via particolarmente stretta. Ragazzi, io questo ho notato, questa è appunto una foto del risultato di questi incendi. mi ha colpito anche questa di Boston. Anche riguardo l'immagine precedente, sembrano effettivamente, e lo leggo anche in chat, ha ragione Gianni che dice, effettivamente sembrano bombardati oppure attaccati dall'alto. Dopo vi faccio vedere un'immagine che mette a confronto, appunto, assolutamente d'accordo. A me ha colpito anche questa, in quanto l'edificio qui, va bene, è rimasto gran poco, ma considerando che questo, proprio scritto qua, Effects of Fire on Granite Walls, cioè gli effetti dell'incendio su delle pareti, o meglio un colonnato direi, di granito, alla faccia del bicarbonato di sodio. Insomma, il granito non mi sembra che sia un materiale particolarmente combustibile, o comunque, no? Cioè, adesso non so, qua, a guardare sti immagini, sembra quasi fuso il granito, non lo so. Mi ha colpito questa immagine, quindi ho voluto proporvela. Anche qui, come l'acciaio delle torri gemelle. Esatto, sì, bravo. Avranno usato la termite antelittera, ma anche qui, che ne so. E infatti, a proposito di quello che hai appena detto, e che è stato fatto notare in chat, queste immagini a confronto, cioè, qua abbiamo, in alto abbiamo Dresda 1945, che in realtà, a me sembrava fosse avvenuto, nel 44, ma non importa, forse è avvenuto nei primi mesi del 45, potrebbe essere, che è stato un evento pazzesco, cioè, non so se voi conoscete l'evento del bombardamento di Dresda, è stato un vero crimine contro l'umanità. Dresda è una storia che a me ha sempre molto colpito, perché si trattava di... la chiamavano la Firenze del Nord, per dire. Era una città medievale, o comunque estremamente sofisticata, con delle architetture molto... insomma, provate a immaginare una Firenze spostata di centinaia e centinaia di chilometri più a nord, in Germania, e potete avere un'idea di come veniva descritta all'epoca. Comunque, praticamente, questa città ha subito un bombardamento di, non mi ricordo nemmeno più quante, probabilmente intorno al migliaio di bombardieri, che oltretutto hanno sperimentato per la prima volta, stiamo parlando di un bombardamento di giorno e di notte, perché di giorno l'ottava forza aerea americana, quindi B-17 o B-24, che bombardavano di giorno, e poi di notte arrivavano gli inglesi, che avevano per loro strategia personale deciso che loro i bombardamenti li avrebbero fatti solo di notte per evitare la caccia nemica, diciamo la caccia tedesca. Comunque, praticamente, questa città, a Dresa, è stata bombardata per... un'ondata dopo l'altra, ma la cosa che mi ha particolarmente colpito è che all'inizio bombardarono il centro della città concentrando il sgancio di bombe al fosforo, bombe incendiarie, in un punto, creando proprio una... quella che viene, se ricordo bene il termine, è stata descritta come una tempesta di fuoco. Cioè, praticamente, hanno creato un incendio talmente... talmente potente, tra virgolette, al centro della città, e con le temperature talmente alte, che ha creato proprio una specie di tornado di fuoco che ha risucchiato letteralmente l'aria per chilometri intorno. Quindi, molti dei civili che si erano rintanati in qualche cantina, molti sono morti per soffocamento perché non avevano più l'aria, l'aria veniva risucchiata verso il centro da questa tempesta di fuoco, e, vabbè, ci sarebbe molto da dire su questo. Comunque sappiate che, malgrado le cifre ufficiali dicono, se non ricordo male, 70.000 morti, a Dresda, secondo fonti non ufficiali, ma a cui tendo a credere di più, sono stati molti, molti di più. Dresda è stata una Hiroshima senza il nucleare, mettiamola così. Poi abbiamo Berlino, bombardata appunto a ondate successive fino alla fine della guerra, e potete vedere appunto gli effetti, e poi appunto c'è Boston nel 1871, le immagini più in basso, che in effetti non si può fare a meno di notare una certa somiglianza, e la stessa cosa si nota in questa immagine di presa dopo gli incendi, dopo il terremoto, gli incendi di San Francisco, soprattutto nella parte destra, nella parte al centro ancora ci sono dei palazzi in piedi, e li avevamo visti in un appuntamento precedente, li avevamo mostrato come certi palazzi di, evidente almeno per me, origine strana, fossero rimasti in piedi, e poi sono stati, diciamo, quello che non è andato distrutto dal terremoto, dall'incendio, è stato poi deturpato da, diciamo così, da interventi di, come si dice, di restauro che hanno, come si dice in Veneto, l'è peso il taccone del buso, no? E' peggio il buco del, della, 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 della pezza, insomma, comunque, qua si può vedere, soprattutto sulla parte destra, Capri, sembra, sembra di vedere Hiroshima, a me, a me sembra proprio di vedere Hiroshima, e con questo non voglio dire niente di che, però mi ha molto colpito, guardate anche questa altra immagine, sempre di, dovrebbe essere sempre San Francisco, è impressionante, cioè, pensare che un incendio, vabbè, qui c'è stato anche il terremoto, quindi, non mi va adesso di azzardare, dico soltanto che comunque, mi colpisce, questa immagine mi colpisce. Ora, a parlare degli incendi di città, come dicevo prima, si potrebbe andare avanti a parlare per molto, ma gli incendi strani non hanno riguardato soltanto centri cittadini, ma in molte occasioni hanno colpito anche singoli palazzi particolari, che guarda a casa hanno preso fuoco, adesso non ci sono più, e in particolare alcuni anni fa avevo scaricato il video che adesso vi mostro, lo guardiamo, ma credo che riassuma meglio di qualunque altro, o comunque assai bene, diciamo qui assai bene, la questione che riguarda determinate costruzioni, in particolare questo video si occupa dei palazzi di cristallo cosiddetti, che caratterizzavano le grandi fiere di cui ci siamo già occupati, le fiere che abbiamo visto a partire dal 1851 in Gran Bretagna, fino alla prima metà del Novecento, e questo video l'ho trovato veramente molto interessante, aspettate che abbasso il volume, ecco, questo riguarda il Crystal Palace, comunque New York per esempio, New York, il Crystal Palace di New York, bruciato nel 1858, quindi anche a New York c'è stata una di queste strane fiere, come dice Mauro, perché ripeto, ce ne sono state in tutto il mondo, in tutti i principali insediamenti urbani, tra l'altro guardarono le immagini di questo palazzo di cristallo, che ricorda molto quello di Londra, sia questo che quello di Londra, che altri che vedrete qui, sono proprio ispirati dallo stesso tipo di architettura, e soprattutto da un dettaglio, di cui l'autore di questo video parlerà alla fine, che è molto interessante, comunque, guarda caso, o insediamenti fieristici bruciati in toto, o abbattuti subito dopo la loro funzione, appunto di chiera mondiale, di esposizione internazionale, oppure colpiti da incendi, anche questo, in Olanda 1929, anche questo, notate le architetture, stranamente, insomma, sembra quasi che, beh, questo scorso è fantastico, guardate le case anche, questo appunto qua dice, che era stato ispirato, dice la narrativa al Crystal Palace, al Palazzo di Cristiano di Londra, e anche in questo interno, assomiglia molto a quello di Londra, comunque, purtroppo, ha fatto la stessa fine di quello di Londra, effettivamente, anche questo bruciato fino alle fondamenta, ma, è curioso, anche qui, se uno va a leggersi, sono andato a leggermi all'epoca, quando ho visto, e scaricato questo video, sono andato a leggermi proprio le cronache, che anche qui, un incendi che non si capisce come, come si siano potuti innescare, pompieri ogni volta che arrivavano in ritardo, quando arrivavano ne arrivavano troppo pochi, o poi le pompe non funzionavano, questo in Vienna, però, sembrano una la fotocopia dell'altra, comunque, anche questo, bruciato, bruciato, di brutto, Crystal Palace, adesso andiamo a vedere, quello di Londra, che è la mia passione, perché, la storia di, la storia che ci raccontano, questo sarebbe stato costruito nel 1851, per la chiesa, per la prima chiesa, la prima chiesa, costruito non si sa come sia stato possibile costruirlo in così poco tempo, perché è stato costruito in qualche mese, e per di più, poi, non si capisce come abbiano potuto produrre tutte quelle lastre di vetro, alcune delle quali, anche curve, come avete visto, quando la produzione industriale del vetro è stata, diciamo così, sviluppata una trentina di anni dopo, nel 1880 o giù di lì, insomma, è fantastico, questo è uno dei più grandi, è enorme poi, era enorme, è la columbian, è quella di Chicago, anche questa, 1893, la columbiana, anche questa, infatti mi ricordo che anche qui, magnifiche, magnifiche strutture, tutto bruciato, anche qui, o bruciato, oppure, quello che non è bruciato è stato demolito, comunque anche qui, succede, di notte non c'è nessuno, ma in questo caso è successo di giorno, perché leggo qui che sono morti anche 16 spettatori, 16 persone del pubblico che stavano, diciamo, assistendo alla fiera, però per esempio nel caso di quella olandese, mi ricordo, a leggere le descrizioni, c'è, dici, ma come cacchia possibile, cosa di terra, è blu, è international, vediamo cos'altro ci propone, l'esposition in Bruxelles, in Belgio, perché dappertutto ne hanno fatte, anche questa distrutta dal fuoco, da un incendio, nel 1910, tra l'altro guardate, questo come architettura mi sembra un po' più moderna, ma forse quello è la, il palazzo, quello che abbiamo visto prima circolare, non è quello che è bruciato, oppure è bruciato insieme a tutto il resto, ma è il Crystal Palace che è andato distrutto, qui dice che è stata distrutta la parte centrale del, dell'esposizione, anche se le parti più esterne sono rimaste abbastanza intatte, anche qui ci sarebbe da ragionare, dimmi Gian, sento che hai un commento reale. Sembrano effettivamente delle demolizioni controllate, anche a vedere anche il fumo, a vedere anche un po' come sono stati fatti, e di questo parlano poi anche i testi sacri, quindi quando vediamo alcune armi usate, per esempio nella Bibbia, in cui gli Elohim si spaventano, oppure le armi usate nel Mahabharata, le armi dei Vimana, quindi termobariche, con tutta una serie di effetti collaterali che possono assomigliare anche a quello, quindi anche quando si dice di vetrificare un po' il suolo, piuttosto che... Comunque l'aspetto interessante che caratterizzava tutte o quasi tutte questi palazzi di cristallo è che esponevano degli, io lo sapevo per quel che riguarda Londra, poi ho scoperto che tutti esponevano degli organi, organi, intendo proprio organi, di cui abbiamo già parlato peraltro, e questo per esempio sono sicuro, perché ve l'ho già mostrato, mi pare, è l'organo del Crystal Palace di Londra, che era enorme, quindi è chiaro che, chiaro almeno per me, o magari anche per voi, che la funzione, al di là, potevano senz'altro essere anche per, diciamo così, fare dei concerti di musica, musica classica, vediamo che Bach, insomma, però nulla mi toglie dalla testa che un tempo gli organi erano proprio una parte fondamentale per il benessere, proprio erano degli strumenti di guarigione, poi oggi lo sappiamo, basta pensare a quanti, chi usa i bagni di suono col gong, stiamo riscoprendo adesso, proprio negli ultimi anni, questo genere di pratiche, i bagni di suono col gong, non so se ne avete mai partecipato a qualcuno, o campane tibetane, dimmi. Guarda cosa ci chiede Cassandra, Notre Dame, ti lo ricordi, potrebbe combaciare con questa tendenza, strano anche quel genere lì, guarda, se me lo chiedi, come posso dirti di no? Certo che io lo penso, però ovviamente non, se uno va a vedersi, com'è possibile, come si può pensare, cos'è che hanno raccontato, che è stata una sigaretta accesa, mi pare, da un operaio che stava lavorando sul tetto, no? Travi vecchie di non so quanto tempo, di secoli comunque, avrebbero preso fuoco perché un operaio ha dimenticato una sigaretta accesa o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, perché sono passati anni e francamente, quando leggo certe stronzate, tendo a rimuoverle, scusate il francesismo, comunque, sì, la penso assolutamente così, anche perché poi c'era un altro dettaglio, quando ne parlai, non mi ricordo in che sede, della cattedrale di Notre Dame, quello che salta fuori è che addirittura, intanto, cioè, Capri brucia Notre Dame e se andate a vedere quanti pompieri sono intervenuti, ne sono intervenuti pochi, ma poi addirittura ci sono delle immagini, dei video che io mostrai, che mostravano questi pompieri che sparavano l'acqua da un'altra parte addirittura, cioè, vabbè, Notre Dame, sì, assolutamente, sono convinto che non sia stato, affatto, una casualità e quando accadde, naturalmente, mi venne in mente, visto che già me ne occupavo, mi venne in mente che, ecco, l'ultimo capitolo, l'ultimo episodio di una storia che va avanti da tanto, tanto tempo. Qui, comunque, questi sono gli organi che abbiamo già visto che erano presenti e non si capisce perché nelle case dei magnati di New York, nella quinta strada, uno dice, ma perché un magnate dovrebbe farsi costruire una casa con dentro un organo incastonato anche nel, cioè, voglio dire, come posso dire, mi sembra normale che una famiglia benestante o addirittura ricca in casa possa avere un pianoforte, uno Steinway, un bello Steinway e gran coda perché i soldi li ha e quindi per far imparare, per far modo che i propri rampolli imparino un po' di, così, di cultura musicale e li fanno prendere qualche lezione di piano, ma immaginare che nella seconda metà dell'Ottocento tutti questi magnati invariabilmente si sarebbero fatti costruire queste case prevedendo proprio la presenza di organi all'interno, di organi poi, mica organi comunque, questo chiaramente non è non è un organo che appartenga a una casa di questi qua, però era per dire che gli organi e più in generale gli strumenti, certi strumenti musicali era una chiave fondamentale, tra l'altro, ecco, guardate questa foto, anche le campane, le campane, anche le campane probabilmente, anzi sicuramente, secondo me, qui traduco cosa c'è scritto, gli organi e le campane respingerebbero, terrebbero lontani gli spiriti, gli spiriti maligni, comunque, le energie negative, traduciamolo così, e utilizzano e altre frequenze per guarire e riparare, riparare, suppongo, le cellule, il DNA, che ne so, risanare un DNA magari compromesso, 432 heri. Mi trovo assolutamente d'accordo, perché in effetti qua ci sono immagini storiche di campane e tra l'altro lo sappiamo tutti, lo sapete anche voi, che ormai questo non è, non cade oggi, è da decenni e decenni, dagli anni 60 e soprattutto 70, soprattutto nelle chiese moderne, che secondo me quegli obbrovi che hanno realizzato, che la chiesa cattolica ha fatto costruire come chiese in centri abitati che sono degli obbrovi dal punto di vista architettonico, sono degli obbrovi anche perché non sarebbero mai in grado di costruire o ricostruire seguendo degli schemi architettonici come quelli magnetici che conosciamo bene e che originariamente non erano deputati ad ospitare nessun tipo di, diciamo così, di funzione religiosa. Ne abbiamo, mi riferisco alle grandi cattedrali che in realtà avevano originalmente un altro scopo. Comunque, per tornare alle chiese che ci sono state… C'era anche una correlazione che ho visto, ho sentito nei giorni scorsi tra l'uso delle campane nei paesi colpiti dalla peste perché sembra che queste frequenze in realtà contribuissero a liberare la città dalla peste. Interessante, eh? Adesso ti racconto un altro dettaglio ma intanto faccio notare e lo sapete benissimo che in moltissime chiese moderne o anche chiese vecchie hanno tolto le campagne… In quelle moderne ci sono gli altoparlanti, ci sono proprio gli altoparlanti per suonare, le campane sono dei nastri registrati e in molte chiese vecchie hanno tolto le campagne originali sostituendole proprio con degli altoparlanti. Verrebbe a domandarsi come mai, almeno io me lo chiedo, cioè è solo una questione di praticità o forse c'è qualcos'altro, forse davvero le campane hanno, avevano degli scopi molto più, molto diversi da quelli che immaginiamo. Tu hai fatto l'esempio della peste, io te ne faccio un altro perché è una storia che ho seguito da vicino grazie a un mio amico che è andato sul campo a indagare insieme ad altri che conosco, non mi ricordo, abbiamo mai, siccome ormai la memoria, ho mai citato la questione della campana dell'acqua bona? No. No, bene, allora ve la cito adesso, la campana dell'acqua bona. Allora, la campana dell'acqua bona è un tempo, adesso io mi riferisco a quello che so, in realtà è un argomento che andrebbe e meriterebbe di essere approfondito o ricercato, il problema è che ormai esistono in giro pochissime persone che si possano definire dei testimoni diretti o addirittura dei campanari di questo tipo di campane, comunque la campana dell'acqua bona in certi paesi soprattutto nel diciamo così nel Veneto nel Basso Veneto in Emilia Romagna in Emilia e Romagna in alcuni centri alcuni piccoli paesi soprattutto ma poi dato che è una questione che si è scoperta per caso e su cui abbiamo poche informazioni se non le poche che siamo riusciti ad acquisire sul campo la campana dell'acqua bona praticamente esisteva questa campana dell'acqua bona che perché si chiamava così? Perché tradotto vuol dire la campana dell'acqua buona cioè praticamente quando arrivava un nubifraggio o un forte temporale o qualcosa diciamo un nubifraggio che metteva a rischio mesi e mesi di lavoro nei campi con le coltivazioni e tutto il resto provate a immaginare grandino cose del genere veniva suonata questa particolare campana che in pratica allontanava o dissipava queste precipitazioni potenzialmente devastanti e quello che si sa è che non è che il paraco pronto lei fa campana vorrei una campana dell'acqua bona cioè non funzionava così ovviamente c'erano dei maestri diciamo delle persone delle persone che si tramandavano evidentemente credo proprio per tradizione orale o comunque di padre in figlio la la diciamo così i segreti della costruzione di queste campane e comunque adesso praticamente ce n'è ancora qualcuna in giro ma non so se esistono ancora diciamo così dei maestri non so come definirli o comunque degli artigiani in grado di produrre queste campane certo a guardare l'immagine che avete davanti cioè parlo dell'immagine in bianco e nero vedere queste distese di campane buttate lì in un luogo in un momento del tempo che io non so identificare ma che potrebbe comunque riferirsi alla potrebbe dico potrebbe perché non lo so dovrei fare delle ricerche dovrei fare delle ricerche per capire qual è l'origine di queste foto che comunque arrivano da molte parti del mondo ma in particolare credo anche osservando in basso la foto in basso forse provengono dall'area della Russia o cose del genere però non ho modo di saperlo non di meno insomma l'ho già ribadito in altre occasioni lo ribadirò anche in questa perché questa immagine a me fa impazzire perché è un perfetto esempio del fatto che attraverso l'architettura attraverso il colore attraverso i suoni quindi attraverso gli organi le campane e altri strumenti musicali è evidente che questi qua o meglio quelli là un tempo cioè l'aspetto armonico in tutte le sue espressioni era fondamentale per quel tipo di società cosa che oggi viviamo esattamente all'opposto di questo oggi qui ci sono degli esempi oggi stiamo riscoprendo la geometria sacra stiamo riscoprendo tante cose però guardate che magnificenza che cose magnifiche esistevano nel passato a livello architettonico e come soprattutto non mi stancherò mai di ripeterlo collegandosi al discorso delle onde di forma eccetera eccetera non erano semplici ammenicoli non erano semplici espressioni artistiche certo erano anche quello ma la diciamo la forma è la funzione non so come come dirlo meglio di così cioè queste forme esprimevano anche una funzione ben precisa tant'è che esiste un filone di ricerca legato per esempio ai rosoni delle chiete e secondo questo filone un tempo i rosoni quelli che adesso vediamo nelle grandi cattedrali con tutto il vetro il vetro colorato questi bellissime per carità vediamo questi rosoni che sono praticamente coperti tappati o comunque insomma sono decorati con del vetro colorato che a quanto pare in origine non c'era in origine i rosoni con quelle particolari architetture che ricordano molto la cimatica di cui tra l'altro possiamo vedere anche degli esempi nell'immagine sinistra nella tabella sinistra non c'era vetro cioè lì passava proprio l'aria che evidentemente grazie a quella forma geometrica veniva incanalata o veniva tirata dentro la cattedrale o quello che era e subiva qualche cosa insomma dimmi una certa vibrazione qua ci veniamo anche alle puntate che ho proclamato la legge dell'ottava ma poi anche per esempio a quello che racconta Malaga in cui antichi edifici come per esempio antiche strutture come quella del labirinto servivano proprio a incanalare il vento per produrre una determinata vibrazione quindi in realtà sono di diverse in giro per il mondo e rispecchia proprio quello che tu ci ci stai raccontato che non servivano tappate perché dovevano proprio sfruttare il vento che ne avrebbe fatte vibrare in un certo modo e se ci pensi bene questo vale per l'aria ma vale anche per l'acqua anche l'acqua veniva incanalata in determinati flussi in determinati secondo determinate modalità che per esempio sono state riscoperte o comunque hanno cominciato ad essere riproposte tra l'altro proprio i più fanatici sono in Svezia si ritrovano ogni anno comunque diciamo questa conoscenza dell'acqua è stata riscoperta grazie dico riscoperta perché appunto secondo me nei tempi antichi conoscevano benissimo questa proprietà dell'acqua e come sfruttarne incanalare i flussi per ottenere per mantenere l'acqua viva ma comunque un grande profeta interprete o comunque scopritore o riscopritore delle virtù dell'acqua è stato Victor Schauberger di cui magari un giorno dovremmo magari fare una puntata per parlare di questo grandissimo personaggio perché ha fatto degli studi e delle scoperte straordinarie dal mio punto di vista pensate che negli anni è stato vicino ricordo che fu invitato negli anni trenta credo per fide in Italia dallo stesso Mussolini perché lui era originariamente lui non era non era uno scienziato come quelli che vediamo in televisione negli ultimi anni no lui era originariamente era un guardaboschi vuoi che ne parli dieci secondi assolutamente sì allora Victor Schauberger era un guardaboschi cioè praticamente passava le intere giornate in mezzo ai boschi di proprietà di un proprietario terriero dell'Austria era lì che quindi era un po' una specie di obbito di elfo non lo so comunque era lì che curava questi boschi e aveva molto tempo in questo silenzio immerso nella natura ispirato da tutte queste forme osservava osservava e il primo spunto che ebbe fu quando osservò un ruscello un ruscello cristallino che scendeva dalla montagna e notava aveva notato come le trote risalivano questo ruscello che insomma aveva anche una certa potenza tra virgolette era piuttosto impetuoso ruscello insomma data anche la prevenza l'acqua scorreva e lui notava le trote che risalivano il ruscello e quasi neanche si muovevano muovevano con pochi colpi di coda molto leggeri loro contrastavano la corrente dell'acqua e risalivano il ruscello e addirittura quando dovevano superare una cascata una piccola cascata cioè riuscivano a fare dei salti che Victor giustamente dice ma come cacchia possibile sta cosa e ha cominciato a studiare e ha cominciato a comprendere e poi sviluppare e applicare alle sue invenzioni alcune caratteristiche dell'acqua tra cui i fenomeni implosivi i fenomeni dell'implosione lui è stato il primo a cominciare a a mettere a frutto il concetto di implosione che è l'esatto opposto del concetto di quella che noi conosciamo come esplosione esplosione qualcosa che da un centro si diparte verso l'esterno produce calore nel caso di un esplosivo per esempio insomma tutto i motori a scoppio sono basati sul concetto quelli che usiamo nelle macchine sono basati sullo sfruttamento del concetto di esplosione ora provate a rovesciare tutto quello che vi ho detto implosione dall'esterno verso l'interno non caldo bensì freddo nei fenomeni implosivi sono sempre caratterizzati da temperature che si abbassano e tante altre cosette interessanti di cui magari parleremo in un'altra occasione perché se mi perdo a parlare dell'implosione di Schalberg non la finiamo più e basti dire che tra le sue lui finì in ci sono varie fonti alcuni dicono che sia stato obbligato altri dicono che in realtà non lo fece poi così ma volentieri comunque lui negli anni dal 44 in avanti venne in qualche modo si ritrovò a lavorare a certi progetti per il terzo like tedesco tra cui appunto sviluppò dei venivoli discoidali ad antigravità che funzionavano proprio in base all'implosione poi dopo la guerra venne praticamente tra virgolette convinto ad andare a diciamo così a lavorare a condividere le sue conoscenze a sviluppare le sue invenzioni negli Stati Uniti credo in Texas se non ricordo male e basta che leggiate che leggete i suoi commenti cioè lui a un certo punto dovete scappare riusci dovete proprio tornare in Austria ma tornò era già abbastanza anziano tornò proprio malato depresso incazzato la sua frase era mi hanno preso tutto hanno preso tutto da me si sono impadoniti di tutto insomma l'esperienza americana è stata così negativa che non fece in tempo a entrare in Austria si parla della fine degli anni 40 48 49 adesso non ricordo la data precisa e scomparve cioè praticamente morì talmente depresso che morì ecco questo ricordiamolo un po' a chi viene assoldato dagli americani un po' la fine che fanno guarda caso quando non gli servi più ci sono di questi fenomeni naturali ecco quindi piccola parentesi sull'attualità si tra l'altro io ve lo faccio questa lo faccio vedere proprio al volissimo perché è una novità è una novità questa è una cosa che io già conoscevo ce l'ho da anni questo standard atras order world del 1865 dove ci sono tutte le bandiere di tutte le nazioni del mondo e compare la vedete nella terza riga nella terza riga la quarta la quinta bandiera da sinistra è la bandiera della tartaria che conosciamo anche troppo bene per chi non lo sapesse il fondale giallo con il grifone grifone nero tra l'altro adesso lo stavo cercando ma non è il caso se no mi perdo c'era avevo notato scorrendo questo atlante delle bandiere che c'era una curiosità che riguardava la bandiera giapponese ma adesso non ho tempo di cercarla comunque ecco questo è un ingrandimento quindi qui potete vedere la bandiera della tartaria grifone nero in campo giallo che è accanto alla bandiera cinese che invece c'è un dragone nero in campo giallo e frangia blu ma ecco ho trovato questo grazie a un gentilissimo gentilissima persona che mi segue che mi ha contattato mi aveva parlato di questo che risale più o meno alla stessa epoca questo lui l'ha visto è solo uscito in qualche modo a recuperarlo anche se purtroppo non ho trovato una versione con una maggiore definizione di questa ma comunque piuttosto che niente è meglio piuttosto questo è bellissimo è di com'è che si chiama il signor tenente di Vascello no capitano di Vascello colon va bene insomma non riesco a leggere perché è un po' piccolino comunque praticamente questo lui lo vide a Livorno alcuni anni fa organizzarono una mostra di non so bene che cosa e fra le cose che erano presenti nel catalogo non era presente nella mostra ma nel catalogo stampato della mostra lui aveva notato questo documento del 800 non so adesso di che anno sia perché dovrei riuscire a grandire ma ho avuto una sega da qua comunque bello interessante dimostrazione delle bandiere che si alberano a bordo dei bastimenti di guerra e mercantili di tutte le nazioni se volevate una conferma ulteriore la bandiera della Tartaria si trova dove si trova comunque c'è la Tartaria da qualche parte dovrei trovare a ingrandire potrebbe essere in prima fila in alto accanto a quella della Sardegna guarda a caso credo che sia poco dopo Francia Toscana Svezia Svezia no no è in basso è l'ultima fila in basso è la quarta bandiera da sinistra Tartaria c'è scritto eccola là sì accanto alla Germania mi sembrava una curiosità interessante da proporvi come ultima cosa avevo trovato anche altre cose ma non voglio rubare tempo ad Adrian quindi vi faccio vedere un'ultima curiosità diciamo che questa è l'ultima è una cosa su cui che quando ci sono incappato mi ha veramente incuriosito e adesso necessiterà di una bella ricerca ma credo che la troverete molto interessante riguarda non riguarda direttamente l'argomento della Tartaria o forse sì non lo so riguarda un aspetto molto misterioso che riguarda le armature insomma praticamente ci sono salta fuori che ci sono delle armature come al solito no tu passi davanti a una cosa e non noti delle cose che invece si dovrebbero notare ovvero sia guardate in particolare l'armatura anche quella al centro provate a immaginare a infilare i piedi in quel ma diciamo che queste sono armature tra virgolette impossibili cioè guardate l'armatura a sinistra di cui poi vedete un dettaglio in basso a destra domanda come fa una persona normale a infilarsi là dentro a infilare i piedi lì cioè non so se capite il quesito che sto ponendo come fa una persona normale a infilarsi in un'armatura come quella considerando che come vedete nel dettaglio in basso a destra cioè è un pezzo unico praticamente come fa a infilare il piede là dentro come si fa io francamente qualche domanda me la faccio e poi l'altro dettaglio è ma io capisco un elmo che debba proteggerti dai colpi o dalle frecce eccetera eccetera ma uno che deve andare in battaglia come fa a vedere attraverso delle feritoie così questo è ancora più interessante a parte che sembra un Darth Hener o Vader a seconda di come lo voglio chiamare siete abituati a chiamarlo no? quello di Werezellari cioè domanda come a parte il fatto lasciamo pure perdere infilarsela infilarsela ma vedete che il collo praticamente è saldato cioè non c'è uno snodo attraverso cui la persona dentro questa armatura possa girare il collo a sinistra o a destra almeno io non lo vedo non so se voi notate qualcosa che io non ho notato ma freccamente mi domando come uno possa infilare lasciamo perdere infilarsi che già è un bel enigma ma soprattutto come può muoversi come può diciamo così operare su un campo di battaglia con un elmo un'armatura un elmo che è bloccato tu guardi davanti o niente e soprattutto guardate attraverso cioè come fa a vederci praticamente c'ha una anche qui bellissimo esempio raffinatissimo esempio di armatura però per quel che riguarda l'elmo cioè ripeto capisco ci sarà la necessità di proteggere il cavaliere o quello che è però cosa vedi attraverso due due piccole feritoie come questa anche qui cioè il solito discorso dicevamo prima il collo credo che sia la stessa armatura di prima controlliamo no non è neanche un'altra addirittura anche questa cioè sembra che il sembra usiamo il condizionale però sembra che il collo non sia possibile girarlo e soprattutto vorrei capire chi sta dentro come fa a guardare fuori attraverso come fa stessa cosa per questa ma come cacchio si fa questa ancora forse si gira però stanno chiedendo in chat se possano essere puramente ornamentali forse ma ci sono anche delle illustrazioni che le rappresentano ben indossate quindi qua vediamo anche la parte difensiva ma delle illustrazioni o nelle rappresentazioni di cui parlo io si vede anche la parte offensiva quindi anche delle spade molto molto particolari che sembrano essere state utilizzate per maneggiare una sorta di energia una sorta di elettricità quindi in realtà sì questo è un altro argomento eccezionale quello delle spade elettriche forse è quello che si è ispirato Luca quando ha creato le spade laser dei Jedi esattamente comunque anche questa armatura diciamo così mi dà molto da pensare intanzitutto non so se notate anche voi notate diciamo così le proporzioni tra le dimensioni delle braccia e le gambe già quello cioè vedete che le gambe sono estremamente più corte rispetto quasi che sia un orangutang è quello che non lo so però diciamo a me non so chiedo perché è un materiale in cui sono incappato e per me è uno studio completamente nuovo le tesi in proposito sono molto ardite ma non le non le esprimerò stasera perché non è il caso prima voglio indagare meglio intanto per il piacere della condivisione sto condividendo con voi queste immagini uno spunto uno spunto di riflessione chiunque chi vuole potrà farsi le sue ricerche però intanto in questa armatura particolare è noto uno strano rapporto fra le dimensioni delle braccia che mi sembrano più lunghe rispetto a quanto dovrebbero essere rispetto alle gambe poi naturalmente me ne era chiedersi come possa uno infilare i piedi lì mettiamo pure che mettiamo che ci sia una spiegazione che io non conosco magari in chat suggeriscono tolchia un giorno magari approfondiremo per ora è sicuramente uno spunto di riflessione le creature di Tolkien che potevano indossarle anche quelle venute dal fango ecco come crea Saruman l'esercito ecco i guerrieri i guerrieri i guerrieri i guerrieri esatto comunque questa armatura e concludo anche qui abbiamo la parte della testa che sembra difficile immaginare possa ruotare però ripeto magari ci sono delle spiegazioni io da ignorante non lo so però diciamo mi ha molto colpito la foggia di questo tipo di armature di questa in particolare ma anche delle altre come ho stato prima e quindi diciamo che mi faccio delle domande qui chiudo col mio delirio serale e lascio adesso con Dimmi adesso poi aspetteremo anche Adria che si collegherà però è molto interessante perché tra l'altro voglio condividere con te mentre è tornato anche Adria voglio condividere con te mentre che lui sia giusto perché so se poi deve condividere lo schermo molti mi hanno chiesto riguardante a questo Mad Flood di cui abbiamo intravisto anche una diapositiva l'abbiamo visto come molti edifici venissero in realtà scavati più che costruiti c'erano interi piani sotterranei ma intatti quindi questo è chiaro che non poteva essere un alluvione ma domanda mi ha sempre incuriosito affascinato come in molti film io mi ricordo ero bambino e vedere per esempio la storia infinita mi inquietava la scena del cavallo che viene preso dalle sabbie mobili ecco quindi in realtà queste sabbie mobili mi hanno sempre un po' inquietato come se facciamo un esempio se si avesse la tecnologia per esempio di rendere la roccia leggera malleabile ma fredda quindi in realtà così potevano essere costruiti i megaliti ma se con la stessa frequenza la stessa tecnologia veniva usata sul terreno che cosa poteva succedere? poteva succedere che il terreno si trasformasse in sabbie mobili quindi qualcosa che c'è al di sopra viene sotterrato ecco quindi ma poi è un fatto noto che in corrispondenza di determinati terremoti o comunque di sismi particolari succede proprio questo che il terreno diventa morbido è come se diventasse melma ma a questo punto visto come diceva Sordi a Macarone ma hai provocato Macarone e mo ti distruggo vede mani non volevo farlo vedere perché ho detto non voglio rubare tempo ad adere però vi faccio vedere tra le cose che ho ritrovato tanto dura pochi dura un minuto dura proprio un attimo vi faccio vedere proprio visto che hai tirato fuori questo argomento vi faccio vedere un video che pertiene a un sisma o comunque a un evento catastrofico avvenuto nel 2018 in credo che sia l'Indonesia guardate soprattutto all'inizio del video perché si vede dall'alto che cosa succede e quindi osservando dall'alto cosa succede si può anche immaginare cosa potrebbe essere successo allora ve lo faccio vedere un attimo tanto dura proprio poco ma giusto per ecco guardate guardate questo video interessantissimo guardate che cosa succede cioè le persone che se sono trovate lì in mezzo hanno parlato era come uno tsunami di fango così l'hanno descritto però guardate proprio il territorio come viene sepolto è letteralmente coperto come si vede poi anche da queste immagini di presa terra diciamo che questo video ci mostra ci mostra mostra davvero delle cose interessanti cioè quello che vediamo in questo video in qualche forma o in qualche misura potrebbe essere la stessa cosa avvenuta in un passato nemmeno troppo lontano probabilmente e che spiegherebbe perché anche qui proprio nel video si vedrà probabilmente fra qualche secondo ci sono delle case che vengono letteralmente sommerse per un piano o giù di lì poi considerate che molte di queste case sono di legno quindi colpisce perché non c'è violenza è proprio lento ma viene liquefatto ma in maniera lento ma inesorabile ecco quindi colpisce quello e quindi ipoteticamente qualcuno che poi tempo dopo dovrà e potrà scavare potrebbe riportare la luce e se vabbè qui chiaramente vediamo la distruzione innescata dal sisma quindi dall'onda sismica però non so se sia in questo video in un altro che dovrei adesso cercare e non lo farò perché non voglio togliere ulteriore tempo ad adriam ma forse anche qui in un'altra inquadratura si vede proprio delle case che sono immerse fino ma comunque l'aspetto più affascinante di questo video è questa immagine dall'altro ecco basta solo questa per niente penso che utilissimo per unire puntini grazie Tom vedo Adrian chiedo fra l'altro ad Adrian se ha bisogno di questa inquadratura o se poi vuole l'altra per condividere lo schermo dimmi tu Adrian guidami tu così vediamo la tua ricerca sei mutato sei mutato sei un muta fuori ah allora sono andato qua ok aspetta mi senti bene? si ok però io adesso lo sento scusate mi ha un po' di eco ecco l'arsel lo sentite voi l'esco? eh? 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 ok adesso? aspetta però io purtroppo non sento io non oso parlare sì no perché mi hanno votato io scusami dicevo ti sentiamo doppio ma passiamo togliamo il cellulare tanto ti abbiamo visto e passiamo all'altra inquadratura se per te va bene ok provo a parlare così così mi senti? sì però ti in realtà si prendo l'audio ok l'ho fatto io quindi ho mutato la tua cam e lo vedo dall'altro ok quando non è più necessario vedere te sì quando non è più necessario vedere te dimmelo che mettiamo invece perfetto la condivisione allo schermo va benissimo allora niente praticamente io questa sera inizierei intanto ripartendo dall'ultima volta che abbiamo in un certo senso parlato abbiamo affrontato alcuni argomenti della Siberia che mi ha attratto molto avevamo detto che comunque sia ci sono delle cose in Siberia che sicuramente sono degne di nota alcune Tom le ha già trattate forse quasi da pioniere come le cupole diciamo metalliche trovate tanti anni fa diciamo in determinate zone della Siberia poi abbiamo parlato anche dell'ago Baikal e abbiamo detto determinate cose tipo le probabili navi forse che sono sotto che in questo momento si stanno riaccendendo e stanno creando degli effetti termonucleari termoradiottivi in un certo senso che stanno creando degli effetti molto particolari non ultima ma probabilmente anche abbastanza recente perché è stata nel 2013 è la scoperta dei megaliti dei megaliti che sono nella regione di Scioria adesso io vi faccio vedere Giallo provo a condividere lo schermo vediamo dovresti vedere allora io ne ho uno con una cartina è quello? quello dopo quello dopo ok adesso io ti faccio vedere questo qua vai pure ecco queste qua sono i megaliti trovati nella Siberia diciamo più verso possiamo chiamarlo la parte settentrionale la parte verso noi diciamo via questi sono i più grandi megaliti trovati sulla faccia della terra addirittura anche più grandi di quelli trovati in Lituania se non erro sono chiaramente non naturali come potete vedere perché ci sono spigoli vivi linee dritte e sappiamo che la natura le linee dritte non le ama in un certo senso e poi comunque sia sassi rocce chiamateli come volete io non saprei nemmeno a questo punto più definire il materiale ma comunque elementi giganteschi che presumibilmente richiederebbero qualcun altro di veramente gigante per essere trasportato diciamo in un certo senso la mia ricerca di questa sera verte più sull'origine di quella che è la tartaria sulla possibile origine di quella che dovrebbe essere la tartaria perché ci sono stati un po' di problemi diciamo nell'identificarla in quanto ci sono parecchi che sostengono che la tartaria è quella diciamo regione quella nazione quella popolazione nomade che Gengis Khan portò intorno al 1200 alla conquista in un certo senso di tutta l'Eurasia quindi comprendere tutta la parte della Russia centrale con la Siberia andando di sotto fino alla parte della Mongolia andando addirittura in delle vecchie cartine delle vecchie mappie si dice che dei viaggiatori moscoviti quindi russi tracciarono le mappe passando e descrivendole l'impero da Mosca a Pechino quindi sicuramente qualcosa di veramente gigantesco il problema è che diciamo questo tipo di popolazione non si crede essere in realtà quello che avrebbe costruito quelle che sono poi le varie diciamo i vari edifici che noi troviamo in tutta la parte della Russia e della Siberia perché sappiamo che ci sono molti edifici che abbiamo fatto vedere anche la volta scorsa che rappresentano sicuramente qualcosa di strano ovvero una tecnologia che non va a braccetto con la popolazione diciamo del posto io e Tom ormai lo portiamo avanti da quattro puntate tre puntate quindi è molto sicuramente questo concetto della tecnologia e di l'incongruenza con l'architettura che ci circonda poi abbiamo provato un po' a capire anche qual è il discorso a cosa possono servire questi edifici e siamo in un certo senso arrivati a capire che c'è un vero e proprio attacco all'energia allo spazio e al tempo all'energia perché come sappiamo sostanzialmente ci sono vari tipi di problemi energetici ne abbiamo parlato diverse volte al tempo perché comunque sia la ciclicità del tempo viene distrutta dalla linearità che introduce Sant'Agostino e poi dopo quella dello spazio quella dello spazio perché comunque siamo sempre rinchiusi probabilmente in delle conoscenze molto più limitanti di quello che lo spazio intorno a noi potrebbe offrirci quindi diciamo una vera e propria matrix alternativa rispetto a quella che noi dovremmo vedere intorno a noi una matrix fatta di preconcetti e di tante altre cose ma non è questo l'argomento torniamo a noi e diciamo che volendo trovare un po' l'origine di questa tartaria sono andato a fare delle ricerche e come ormai sapete io vengo attratto molto dai segnali quindi erano dei giorni che cercavo della tartaria e continuavo a presentarmi Atlantide in un certo senso allora dico che c'entrerà mai Atlantide con la tartaria ma perché perché e mi intrometto insomma un po' nella ricerca e vado a vedere che se noi tenessimo diciamo per buona l'ipotesi di quei mille anni che sfuggono in realtà potremmo riportarli anche in altre varie parti della nostra della nostra storia della storia insomma come ce la raccontano quindi sicuramente della storia come noi la conosciamo e allora a questo punto mi imbatto in nel timeo di scusate un lapsus di Platone giustamente nel timeo di Platone e nella chiacchierata insomma che fanno due persone molto note adesso io Giallo ti condivido il video che è questo qua sotto con la cartina e se possiamo ascoltarlo poi ci ragioniamo sopra insieme per esempio anche da voi che una volta Fetonte figlio del sole dopo aver aggiogato vi è in Egitto di Sicrizia nel delta intorno al quale in cima si divide il corso del Nilo una regione chiamata Saitica e la città principale di questa regione è Sais da cui proveniva anche il re Amasi e che secondo i suoi abitanti ha come fondatrice una dea il cui nome è in Egizio Neith e in greco a quanto dicono Atena essi si proclamano grandi amici degli Ateniesi e in qualche modo loro parenti Solone diceva che una volta giunto lì gli fu testimoniata la loro grande considerazione che interrogando una volta sugli avvenimenti antichi i sacerdoti più preparati su queste vicende si rese conto per il fatto che né lui né nessun altro fra i greci sapeva praticamente nulla di esse e una volta volendo indurli a parlare degli avvenimenti antichi prese a raccontare ciò che da noi si considera come antichissimo ossia di Foroneo che si dice sia stato il primo uomo e di Niobe poi di Deocalione e Pirra dei miti che narrano come essi sopravvissero dopo il diluvio e della genealogia dei loro discendenti e provò a calcolare sforzandosi di ricordare quei tempi a quanti anni addietro risalissero gli avvenimenti di cui parlava e uno dei sacerdoti di età davvero molto avanzata gli disse Solone Solone voi greci siete sempre dei ragazzi un greco non è mai vecchio udito ciò e gli chiese che intendi dire con questo siete tutti giovani d'animo rispose il sacerdote perché non avete nelle vostre anime nessuna opinione antica trasmessa attraverso una tradizione che proviene dal passato né alcun sapere ingriggito dal passare del tempo ed ecconi la ragione vi sono state molte e varie catastrofi per l'umanità e molte ancora ve ne saranno le più grandi dovute al fuoco e all'acqua altre meno gravi provocate da infinite altre cause ciò che si racconta per esempio anche da voi che una volta Fetonte figlio del sole dopo aver aggiogato il carro del padre quindi praticamente parliamo di Solomone che va a parlare con questi diciamo monaci non mi ricordo bene scusate se erano monaci o altro ma comunque sia dei personaggi sacerdoti sacerdoti non mi viene al termine sacerdoti in Egitto che gli raccontano un po' di cose gli raccontano determinate cose soprattutto del paragone tra l'Egitto e la Grecia del tempo quindi la civiltà minoica in un certo senso e si trovano poi andando avanti Solone scusate andando avanti adesso andremo un altro pochino avanti perché c'è un punto cruciale intanto loro hanno già detto che ci sono stati vari chiamavano Reset in un certo senso nella storia che hanno diciamo ricominciato comunque sia il corso degli eventi da un certo tipo di consapevolezza hanno ripreso come se fosse stato da zero andiamo leggermente avanti che faccio sentire un'altra cosa essendo incapace di guidarlo lungo il percorso paterno fece bruciare tutto ciò che si trovava sulla terra e morì lui stesso fulminato ebbene questa vicenda si narra sotto forma di mito mentre la verità è che si dà una deviazione dei corpi che si muovono nel cielo intorno alla terra e una distruzione di ciò che si trova sulla terra per un eccesso di fuoco che avviene dopo lunghi intervalli di tempo ecco allora che tutti quelli che risiedono nelle montagne e in luoghi elevati e aridi sono assai più soggetti alla morte di coloro i quali hanno la loro dimora vicino ai fiumi e al mare per quanto riguarda noi invece il Nilo già nostro salvatore in altre circostanze ci salva anche allora straripando da questa calamità quando invece gli dèi sommergono la terra di acque per purificarla si salvano coloro i quali risiedono nelle montagne i bovari e i pastori mentre coloro i quali abitano nelle vostre città sono trascinati al mare dalla corrente dei fiumi ma nella nostra terra neanche allora né in alcun altro momento l'acqua fluisce dall'alto sui campi ma al contrario essa scatolisce sempre dal basso queste sono le ragioni per cui si dice si sia conservata qui da noi memoria delle vicende più antiche ma la verità è che in tutti i luoghi in cui non li impedisce né un freddo eccessivo né un calore soffocante il genere umano il numero più o meno grande non scompare mai quindi di quanto è accaduto da voi o qui o in qualunque altro luogo e di cui noi siamo a conoscenza per averne sentito parlare se è avvenuto qualcosa di bello o di grande o caratterizzato da qualunque altro segno di eccezionalità ogni cosa viene registrata qui fin dall'antichità nei nostri templi e conservata alla memoria mi viene in mente anche la biblioteca di Alessandria d'Egitto un altro grandissimo incendio che è stato fatto quindi in questo momento ci stanno spiegando sostanzialmente che in Egitto la conoscenza è continuata è sempre stata racchiusa è stata sempre diciamo tenuta lì ferma e probabilmente non erano gli originali diciamo quelli che conosciamo noi gli egiziani ad avere quella conoscenza come abbiamo detto stante volte ma probabilmente loro sono dei custodi di qualche conoscenza dei custodi che in realtà poi tramite appunto anche diciamo l'incendio della grandissima biblioteca di Alessandria d'Egitto è andata perduta questa conoscenza sostanzialmente appunto narra di diversi reset di diversi comunque sia visto che siamo in tema inizi nuovi inizi della società della popolazione come loro conosciamo ma qualche secondo di pazienza e vi dico cosa c'entra con la tartaria vado avanti un altro po' ma da voi e anche altrove appena sia stato fissato e costituito ciò che riguarda la scrittura e qualunque altra cosa di cui le città hanno bisogno di nuovo a intervalli regolari di tempo con una malattia torna il flusso del cielo che vi inonda e non lascia illesi fra voi che gli illetterati e i nemici delle muse sicché ricominciate nuovamente dal principio come tornati giovani senza sapere nulla degli eventi dei tempi antichi né di quelli di qui né di quelli avvenuti presso di voi e le genealogie della vostra gente di cui ora ci parlavi Sorone differiscono assai poco dalle favole dei ragazzini poiché in primo luogo voi ricordate un solo diluvio mentre molti ve ne sono stati prima in secondo luogo non sapete che la stirpe di uomini più bella e migliore è sorta nella vostra terra e da quella discendete tu e tutti i tuoi attuali concittadini giacché da allora si è conservato un po' del loro seme ma voi non ne siete consapevoli perché nel corso di generazioni i sopravvissuti sono morti senza aver fissato la loro voce nella scrittura vi fu infatti un'epoca Solone prima del diluvio più grande in cui quella che è ora la città degli Atenesi era in assoluto la migliore in guerra e quella dotata dei migliori ordinamenti da ogni punto di vista e si dice che da essa furono compiute le imprese più belle e che ebbe le più belle istituzioni tra tutte quelle di cui sotto il cielo noi abbiamo avuto notizia avendo dunque ascoltato ciò Solone affermava di aver provato meraviglia e un grande desiderio di chiedere ai sacerdoti di raccontargli ogni cosa con precisione e nell'ordine esatto degli avvenimenti riguardo ai suoi antichi concittadini e il sacerdote rispose non ti nasconderò nulla Solone ma parlerò per amor tuo e della vostra città e soprattutto in onore della Dea che ebbe in sorte la vostra città e la nostra che le ha allevate e istruite anzi la vostra mille anni prima della nostra quando ricevete da Gea e dai Festo la vostra semenza nei nostri testi sacri è scritto il numero di 8000 anni da quando la nostra città fu costituita io ti svelerò quindi in breve le leggi dei tuoi concittadini di 9000 anni fa e la più bella delle imprese da essi compiute quanto i dettagli di ogni cosa li esamineremo uno dopo l'altro in un'altra occasione quando avremo il tempo con i testi sotto mano considera dunque queste leggi mettendole in relazione con le nostre infatti molti esempi delle vostre leggi di allora li troverei adesso qui da noi innanzitutto il fatto che vi è la classe dei sacerdoti tenuta distinta e separata dalle altre poi quella degli artigiani in modo che ciascuna categoria di artigiani eserciti la propria attività separatamente dalle altre e senza mescolarvi poi la classe dei pastori quella dei cacciatori e quella dei contadini la classe dei guerrieri d'altro canto avrai già notato che qui è separata da tutte le altre ed è stabilito dalla legge che essi non si occupino di niente altro se non di ciò che riguarda la guerra quindi intanto troviamo un piccolo archetipo e questa va la buttola velocissimamente ovvero tra il discorso dello spirito guerriero in un certo senso dei tartari dei barbari di Gengis Khan e quello in un certo senso di alcune diciamo città atlantidee comunque sia scusate egiziane e greche che venivano studiate proprio appositamente per suddividere ogni piccolo diciamo mestiere per far sì che siano proprio trattati solo determinati argomenti questo qui è una piccola cosa ma andando avanti succede che praticamente Solone in questa chiacchierata con questo anziano viene alla conoscenza che c'è una diciamo un legame molto stretto tra la Grecia e l'Egitto ma non solo tra l'Egitto la Grecia e Atlantide c'è praticamente quest'Atlantide che molti di voi avrebbero hanno sicuramente già sentito qui parliamo di facciamo finta che siamo sempre su facciamo finta che quindi parliamo di qualcosa che ancora ad oggi non è stato trovato ma sicuramente ad oggi è ancora ricercata come cosa ma per quale motivo perché a mio parere diciamo Atlantide è stata un po' quella che ha dato il via a determinate a determinate realtà su quello che noi conosciamo come il globo terrestre perché vedendo la posizione che potrebbe essere tranquillamente quella in mezzo questa che noi conosciamo a largo diciamo del Portogallo sostanzialmente è stata come si dice è stata proprio protagonista di una antica guerra contro Atene che poi dopo Atene ha vinto e ha totalmente distrutto Atlantide ma datemi due secondi ancora e finiamo questo audio così almeno ve lo racconta lui che è bellissimo comunque l'audio per chiunque volesse sentirlo non è altro che la traduzione vocale dei testi di insomma di Solone quindi andando avanti quindi praticamente la lettura di Eclizia e Timeo di Platone è quello? esatto stasera perché scusatemi è tutto il poverito che sto leggendo non ho messo un po' confuso comunque effettivamente è assolutamente quello scusatemi ragazzi allora vado avanti e finisco con quest'audio inoltre l'assetto del loro armamento scudi e lance di cui noi per primi ci siamo forniti fra i popoli d'Asia fu la dea a mostrarci l'illuso come anche a voi per i primi e ancora per quel che riguarda il pensiero vedi quanta cura gli ha dedicato la legge qui da noi fin dal principio secondo un ordine stabilito avendo individuato tutte le scienze fino alla divinazione e alla medicina che si occupa della salute da quelle divine alle loro applicazioni umane e avendoci fornito anche tutte le altre scienze che dipendono da queste questa intera organizzazione dunque e questo ordinamento la dea li diede a voi per primi con la fondazione della vostra città scelto questo luogo propizio a generare uomini che le assomigliassero quanto più possibile lo colonizzò per primo lì dunque abitavate dotati di leggi di tal genere e anche migliori superando tutti gli uomini in ogni ambito dell'esercizio e della virtù come è verosimile che avvenga a coloro i quali sono stati generati e allevati da dei molte e grandi sono le imprese della vostra città registrate qui da noi che suscitano ammirazione ma una sopravanza a tutte le altre per grandezza e valore recitano infatti i nostri testi che la vostra città pose fine un tempo a una grande potenza che avanzava con arroganza su tutta l'Europa e l'Asia insieme proveniente dall'esterno dall'oceano atlantico allora infatti quel mare lontano era navigabile già che vi era un'isola davanti allo stretto che voi chiamate a quanto dite colonne d'Ercole e questa isola era più grande della Libia e dell'Asia messa insieme e da essa era possibile ai navigatori di allora passare alle altre isole e da queste all'intero continente che vi si trova di fronte e che circonda quel mare che è il vero mare infatti tutto ciò che si trova all'interno dello stretto di cui stiamo parlando sembra un porto che abbia un'entrata stretta mentre di là dello stretto quello è davvero mare e la terra che lo circonda la si può chiamare con verità e nel modo più proprio continente in questa isola Atlantide si era costituita una grande straordinaria potenza regale che dominava l'intera isola e molte altre isole e parti del continente inoltre all'interno dello stretto dominava anche la Libia fino all'Egitto e all'Europa fino alla Tirrenia a un certo punto questa potenza concentrata e tutte le sue forze tentò di sottomettere in un sol colpo la vostra terra la nostra e tutte quelle al di qua dello stretto allora dunque Solone a tutti gli uomini si resi manifesta la potenza della vostra città per il suo valore e per la sua forza infatti ergendosi su tutte le altre città per grandezza d'animo e per ingegno nelle opere militari prima la guida dei greci poi rimasta da sola per necessità poiché era stata abbandonata dalle altre città affrontati i pericoli più estremi e sconfitti di invasori innalzò il trofeo della vittoria e impedì che fossero ridotti in schiavitù coloro che mai erano stati schiavi e liberò tutti noi altri che abitiamo all'interno delle colonne d'Ercole senza nessuna eccezione nei tempi che ci siamo possiamo anche togliere questo contributo giallo e praticamente che cosa succede questa cosa mi è servita per capire due o tre punti fondamentali allora chiaramente qui l'anziano ha detto a Solone che diciamo c'era una gerarchia c'era una costruzione di una società molto avanzata addirittura mille anni prima della società conosciuta in Egitto quindi praticamente Atene pre-Egitto in questo caso da questo racconto ma che addirittura Atene prendeva determinate leggi e determinate regole da una diciamo dea che aveva scelto quel posto per riprodurre diciamo a sua immagine e somiglianza determinate cose quindi qua già mi ricordo Atlantidei di una parte Atene che cerca di dare quindi torniamo sempre in un certo senso a guerre tra dei guerre tra situazioni diverse tra dei diciamo che possono riportare a questo tipo di ragionamento ci sono stati molti diluvi sicuramente ci sono stati dei problemi sicuramente è stato un vulcano che ha soffocato Santorini e buttato all'aria tutta la civiltà minoica che poi probabilmente con l'esplosione ha portato via anche Atlantide quindi se questo qui è uno di quei reset diciamo naturali che noi possiamo conoscere naturali buttiamola lì però possiamo pensare che ci sono stati dei superstiti dei superstiti dei superstiti che in realtà potrebbero aver creato quella che noi conosciamo come Tartesso ovvero una sorta di colonia che è sotto la Libia quindi comprendeva una parte del Portogallo una parte della Spagna e poi diciamo anche forse leggermente andava sotto ed è una diciamo città che è cresciuta diciamo in quel punto lì precisamente fino al 500 avanti Cristo quindi non troppo lontano e se togliamo i mille anni da cui venivamo di cui abbiamo parlato anche stasera vediamo che i torni comunque contano come qualcuno direbbe perché se Tartesso nella Bibbia è stato descritto insomma fino al 500 che poi è stato attaccato dai cartaginesi in un certo senso però possiamo leggere che allora i Tartessiani sono i più civilizzati tra gli iberici conoscono la scrittura possiedono libri antichi e anche i poemi e leggi inversi che si consideravano antichi di 7000 anni poi Tartessiani faccio solo un appunto perché con iberici la gente pensa alla penisola iberica che è la Spagna ma in realtà c'è un'iberia appunto proprio situata in centro Asia quindi nel senso nell'epoca un po' dei gazzari ecco più o meno lì c'era comunque un'iberia anche situata lì quindi in realtà molto spesso i nomi vengono spostati sempre di più verso l'ovest io sto parlando proprio di quella spagnola in questo caso io sto parlando proprio dell'iberia spagnola perché Tartesso sostanzialmente sarebbe stato in un certo senso il mix tra uno tra l'Atlantide secondo me e quello che potrebbe essere la Tartaria che noi abbiamo conosciuto con G.G.Scan ok o comunque sia un distaccamento di Atlantide ragazzi stiamo facendo finta che io vi sto portando determinati ricerche adesso vi racconto anche quelle altre cose che ho visto ovvero che praticamente la storia dice che guarda caso il mito vuole che Gerione era il primo re mitologico di Tartesso Tartesso come ho chiamato come vuoi dire secondo la leggenda la leggenda era un gigante tanto per poi comunque sia eventi storici ce ne sono stati molti dal secondo millennio che possiamo riprovare anche in età del bronzo le dà del ferro ci sono una marea di cose che vengono portate da questa diciamo realtà ma poi se vogliamo trovare ancora qualcosa in più sui giganti basta andare nella Genesi 6.4 e qualcuno scrive c'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli sono questi gli eroi dell'antichità uomini famosi allora quello che sostanzialmente a me è venuto in mente perché poi se noi andiamo a vedere l'ultima realtà che viene conosciuta come diciamo la capitale della Tartaria è appunto Kazan quella che tanti in realtà dicono non essere per niente non centrare in niente in realtà con quello che è la vera Tartaria ma se noi andiamo a vedere un attimo le cose diciamo gli edifici che ci sono adesso li condivido lo schermo giallo possiamo vedere che ci sono degli edifici particolari sicuramente c'è un secondo cremlino intanto e poi c'è questo tipo di edificio che è molto molto particolare perché non nonostante insomma potrebbe essere abbastanza nuovo comunque sia se noi sappiamo che era un popolo bene o male di viaggiatori era un popolo di nomadi erano di tartari ce li descrivono come un popolo di persone che non avevano la casa ma allora queste cose qua chi le ha costruite chi le ha fatte come mai sono in piedi queste cose e poi non è che io vi sto dicendo una cavolata perché se noi andiamo nella mappa di Urbano Monte ancora un'altra volta possiamo vedere tranquillamente che c'è scritto che alla voce tartari loro erano dei popoli che non avevano dimora e che vivevano praticamente con a cavallo sostanzialmente infatti erano molto abili a cavallo e arcieri molto abili arcieri abili a cavallo che praticamente giravano tutta l'Eurasia senza il come si dice la cosa la brama diciamo dell'oro delle prete preziose beh allora spiegatemi perché ci sono delle cose così in Siberia voglio dire chi l'ha costruita queste cose qui allora io facendo questi tipi di calcoli tartesso giganti in Siberia giganti di là Atlantide come centro diciamo di militare super addestratissimo che ha perso una battaglia contro Atene subito dopo c'è stato un reset naturale qualcuno probabilmente si è spostato da una parte all'altra tanto bene se poi andiamo a vedere tartesso che tipo di particolarità aveva dal ricerche linguistiche sembra probabile che vi si parlasse una particolare lingua il cosiddetto tartessico di cui esiste traccia letteraria il tartessico sorprendentemente non risulta imparentato con il basco con l'iberico e con il lusitano cioè con l'indo europeo sono le altre famiglie linguistiche dell'iberia precedenti dall'arrivo dei celti quindi probabilmente c'è un qualcosa di celtico o forse addirittura qua sotto c'è scritto anche un po' di etrusco cioè tornando in un certo senso sembra dalle zone dove c'è Cazzani dove c'è l'idea della tartaria quindi io ecco questa sfera ve la metto là in questo modo non so voi che cosa ne pensate Giallo Tom adesso ci arriviamo però era giusto perché quindi sono queste tue ricerche e poi ognuno prende degli spunti e ne andiamo a parlare assieme Tom un commento su questo hai trovato qualche spunto che ti ha acceso qualche lampadina vuoi aggiungere qualcosa? no ci devo riflettere un attimo ha buttato nel fuoco un sacco di cosette interessanti soprattutto quando citava i Celti mi è venuto in mente che per esempio per quel che riguarda non c'entra niente ma forse c'entra qualcosa non lo so per quel che riguarda la Sardegna esiste un filone di ricerca in particolare condotto da un grande ricercatore che adesso non è più con noi comunque per cui le diciamo le popolazioni non dico tutte ma una buona parte delle popolazioni sarde proprio stiamo parlando di quelle di migliaia di anni fa in realtà erano originarie proprio del diciamo così del probabilmente dell'Irlanda o di zone del genere pensate un po' quindi anche le tesi diciamo così la pastura che ha gettato Adrian è senz'altro interessante quindi ci devo un attimo devo andare a farmi delle ricerche per conto mio e vedere di unire anche io qualche puntino e finché volevo siccome in chat c'è Ginus DM che mi ha mandato un messaggio non so se è ancora con sì ecco Tom quello che sto dicendo Adrian eh ah sì infatti ci stavo arrivando Ginus intanto ti ringrazio ho ricevuto la tua email mi scuso mi scuso profondamente per non avverti ancora risposto perché in questi giorni sono stato subissato da decine e decine di altri email un sacco di ironia da risolvere domani ti rispondo ho trovato molto interessanti gli spunti i suggerimenti che mi hai dato nella tua email e ti ringrazio davvero di cuore quindi domani nelmeno ti ringrazio anche per iscritto intanto lo faccio in questa sede e va bene così basta non ho altro da aggiungere per il momento ah mi domandavo se a proposito di Giganti l'avevate mai visto il video giapponese del Giganti visto senz'altro immagino no? se ce l'hai lo vediamo molto volentieri anche perché effettivamente c'è la playlist tartaria andate a unire tutti i puntini proviamo a unirli anche con quello che racconta Nicola a sentiero di Atlantide perché lì invece sulla versione dei misteri le usini anche lì Atlantide ci ha raccontato parecchio soprattutto di quello che accadeva al nord potrebbe anche incastrarsi con quello di cui ci ha raccontato Adria ci sono degli spunti interessanti è una puntata che va ascoltata e riascoltata ed è una ricerca che stiamo facendo in tempo reale con i nostri amici a casa io e da giorni che mi segue anche un po' magari a causa di parte del DNA che porto un po' questo filone di alcune popolazioni gitane alcuni popoli in qualche modo costretti ad emigrare derivanti dall'India che portano con sé del misticismo del mistero dell'arte delle conoscenze loro e in qualche modo andrebbe approfondito l'origine di questi popoli a seconda delle strade che fanno dal nord per arrivare fino a noi e dal sud ma è lo stesso popolo con le stesse origini infatti guarda sintetizzando era un po' l'idea quella che io volevo portare questa sera diciamo che togliendo appunto qualche anno rispetto a quelli che conosciamo per il discorso della cronologia che non torna mettendoci dentro dei nomi e dei popoli che si sono visti comunque sia diventati al massimo e al loro apice comunque sia all'intorno vicino al 1200 con Gengis Khan che è stato il massimo e poi dopo piano piano si è visto sempre diventare più piccolo questo regno della tartaria fino ad arrivare al 1700 che è scomparso ma se appunto noi andiamo indietro ancora di più e facciamo perché io quello che sto cercando di fare è quello che apro parentesi non tanto per il complemento che ringrazio ma perché c'è Victor Nunzi che è appena scritto un libro bellissimo sulla regalità degli dei e trovate anche le puntate insieme a lui quindi mi fa piacere trovarti anche in chat questa sera quindi un abbraccio anche a Victor Nunzi scusa no niente in realtà no dicevo questo sostanzialmente volevo portare proprio l'idea di un problema diluviano chiamatelo come vi pare o anche una super eruzione appunto come a Santorini che ha distrutto una città in un giorno in un certo senso quindi qualcosa che ha creato veramente un disagio per far sì che magari alcune per andare a ricercare quelle caratteristiche che in un certo senso connettono alcuni popoli e alcune disgrazie avvenute nel corso dei secoli come appunto esplode Santorini affonda la maggior parte di Atlantide ci sono alcuni diciamo superstiti in alcune colonie lì vicino come per esempio Tartesso che era conosciuta come una grandissima potenza militare che poi guarda caso si rivede comunque sia in tutta la caratteristica che ha portato avanti ad oggi i Mongoli e i Tartari come popolo grandissimo di guerrieri in un certo senso più che altro quindi ecco se poi li vogliamo paragonare a quelli che noi conosciamo probabilmente come quelli ultimi che sono il residuo anche loro sono magari erano dei custodi di quello che era probabilmente la vera Tartaria di prima io so questa idea di molti popoli odierni che sono dei custodi di realtà prassate e alcuni di questi popoli in realtà non ne hanno nemmeno la consapevolezza come noi probabilmente con i Romani abbiamo un certo di consapevolezza ma non sappiamo tutto del popolo romano gli indiani probabilmente la stessa cosa gli africani uguale quindi siamo tutti stiamo tutti cercando di ricordare in qualche modo ma secondo me c'è una connessione tra diverse cose e scavando 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 in qualche modo qualche connessione si trova anche perché io una domanda mi sono fatto magari una stupidaggine ma oggi io ricercavo delle date prima dello zero diciamo prima dello zero ho detto ma quelli che venivano prima dello zero già avevano profetizzato che veniva Gesù Cristo quindi come scrivano la data ok cioè perché non si vede mai una data prima di Cristo in giro che scrive magari la datazione capito che tu hai sì perché il tempo è stato inventato tot va bene però allora cioè continuano a non tornare certe cose mi spiego Giallo l'adattazione è una di quelle cose che non tornano sicuramente quindi è interessante è interessante vedere un po' comunque abbiamo un pubblico eccezionale secondo me molti sono in particolare Ginus a cui mi riferivo prima vedo sto leggendo dei suoi commenti e Cate è molto preparato e fa dei sì Ginus mandami quel materiale nuovo che hai appena citato in una di queste cose a dove modo visto che altri vorrebbero la tua mail quindi dove ti si può mandare del materiale o delle considerazioni hai un'e-mail che puoi dare sì Kestrel con la K Kestrel K-E-S-T-R-E-L libero.it chiocciola libero.it quando non si ingolfa più o meno riesco a leggerla infatti l'e-mail di Ginus mi è arrivata lì l'ho letta torno a chiedere scusa se non gli ho risposto subito ma sono giornate un po' frenetiche per me e se volete vi mostro tanto dura un minuto neanche questo volentieri questo video che a me piace molto perché naturalmente dai ben pensanti è stato etichettato come una fake anche perché è stato utilizzato come sigla o come introduzione a un film di fantascienza di produzione giapponese e secondo me è un chiaro parlo per me secondo me è un depistaggio nel senso che il video io non posso mettere la mano sul fuoco sul fatto che sia autentico o meno a me pare autentico ma il fatto che sia stato messo come diciamo così anteprima come non so come definirlo come prefazione per usare un termine librario a un film girato poi appunto realizzato in computer grafica giapponese il cui protagonista è un gigante e se tu guardi il film dal punto di vista proprio della grafica è una schifezza totale allora mi domando ma perché fare un minuto di materiale che veramente a guardarlo adesso lo vedrete giudicherete voi sembra è fatto benissimo se è un fake è fatto veramente bene ma io non penso che lo sia e poi tutto il film è una vera schifezza dal punto di vista tecnico comunque guardate questa sequenza un video presumibilmente girato sarà fino a 800 inizio a 900 credo in Giappone lo giudicherete voi io mi limito a proporre lo vedete? sì ok Grazie a tutti. 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 Mi sa che i lotatori di sumo hanno una discendenza da quelli là o comunque tendono a emularli, quindi nel senso vedete come in realtà molte popolazioni vadano a cibare a forza piuttosto che a modificare un po' i tratti somatici della prole anche dei figli, anche a corso di ucciderli come lo fanno con i testi d'oricocefali, con le fasciature, con varie modifiche del collo. E quindi anche il nutrire con una dieta apposta in cui non è tanto una discendenza di DNA perché nel sumo arriva nella famiglia prescelta un portavoce che dice il vostro figlio è stato scelto per essere un lotatore di sumo. E da lì parte una dieta molto molto particolare che li porta poi a modificarli fisicamente. C'è un dettaglio che a me ha colpito, che non vuol dire niente, ne ha favore, ripeto non c'è modo di sapere se è autentico oppure se è un fake, ma come dici tu se anche fosse un fake in ogni caso ha comunque un suo perché, mettiamola così. Ma io dico, la cosa che ho notato è questa, se uno deve fare un fake, Capri è andato a curare dei dettagli anatomici di questo gigante che non sono così banali. Non so se hai notato per esempio la struttura del collo, cioè il collo proprio con delle muscolature che sembrano, mi sembra logico per una persona di quel peso, deve avere una, deve avere un... Il trapezio, sì, 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 quello taurino come scrivono in chat. In grado di sostenere anche una forza di gravità che non è quella di... Insomma, la fisionomia è studiata molto bene, ammesso che sia un fake e non posso escluderlo, anche se mi piacerebbe pensare che invece non lo sia, anche se si è perso la memoria storica se fosse così. E che comunque, avendo i mezzi, sarebbe bello poter brancarsi in Giappone a fare delle ricerche apposite, scoprire una volta per tutte cosa c'è dietro questo affascinante filmato. Però... Fra l'altro, sia chi dice che è fake, sia chi dice che è vero, possono avere ragioni entrambi. Perché? Perché supponiamo che un video del genere sia sfuggito alla distruzione. Come lo vai screditando? Mettendone in giro simili, ma palesemente fake. Esatto. Potrebbe essere sia vero che fake. Le portette avvelenate, no? Che si mettono in giro. Vabbè, Carlo, posso condividerti una cosa proprio a proposito dei giganti, così finisco questa cosa volante? Ma poi, fra l'altro, lasciamo anche una parentesi aperta, così la chiudiamo alle due ore questa puntata, e l'argomento gigante, anche con i recenti ritrovamenti di cui mi stanno parlando, mi stanno arrivando un sacco di input che voglio verificare, ma la Sardegna, la terra di Tom, ne è veramente più che protagonista in ambito dei giganti, quindi merita sicuramente un approfondimento. Hanno appena ritrovato nuove statue dei giganti di Monteframa, tanto per dirne una notizia di qualche giorno fa. Esatto. Vai, Adrian. Sì, allora, concludo dicendo questa cosa qua, in giro per le carte antiche, vicino all'Islanda, troviamo la Frieslanda. Io l'altra volta ve ne ho parlato. Ok, adesso vi faccio vedere subito di cosa si tratta. Frieslanda, la troviamo sempre sotto all'Islanda e sopra all'Inghilterra. La troviamo anche nelle mappe di Mercator, che è uno... Sì, esattamente, Mercator, bravissimo. E praticamente qua c'è la Groenlandia, qua c'è l'Islanda e qua c'è la Frieslanda. Allora, la Frieslanda, io adesso già lo ricondivido un'altra cosa, un'altra mappa, così ti faccio vedere subito che cosa ne pensava il nostro caro amico Urbano Monte di questa cosa. E vediamo subito. Allora, intanto anche lui, se non erro, l'aveva disegnata proprio qua sopra, dove l'altra volta io l'avevo fatto vedere. Eccola qua, la Frieslanda. Aspettate che giro. Ok. Eccola qua. Addirittura qua c'è anche l'Itland, Itland. Frieslanda, Islanda, vedete? E qua c'è il vorago dell'altra volta che vi ho fatto vedere. Eccola qua. La Friesland. Adesso andiamo a vedere che cosa intende lui per Friesland. E questo parliamo, ragazzi, del Cinquecento, eh? Parliamo del Mille Cinquecento, presumibilmente, o forse del Cinquecento. Allora, della Spagna, della Francia, adesso lo troviamo subito, eh, della Fiandra, sono tra alcuni di questi, di questi, diciamo, appunti qua. E lo troviamo subito, eh. Allora... Scusate un secondo, ma c'era qua. Eccolo qua, mi sembra, no? Aspetta. Della Spagna, della Francia. Lo troviamo subito, eh, ragazzi. Fa vedere, comunque sia, spiega, dei paesi settentrionali. Eccolo qua. Scusatemi, ma ci vuole un attimo. Quindi, dei paesi settentrionali, cioè, Frieslanda, Islanda, Cruellandia ed altre terre vicine, ok? In altre province vicine. Questi popoli sono, la maggior parte, cristiani, che esercitano molto nella Katia, non so che cos'è, eh, vestono di lana, sono di grandissima statura. Quindi, ecco, sostanzialmente, anche qua, sono di grandissima statura, che poi non basta questo, ma possiamo anche andare qua, perché non è che lo diceva solo così, diciamo, il nostro amico Urbano Monte. Se noi andiamo da quest'altra parte, troviamo, in realtà, la terra dei giganti, che adesso io ve la trovo subito. Adesso, non mi ricordo male, eccola qua. La regione dei giganti. Addirittura, lui qua la mette anche qua sotto. Ma poi, vi ripeto, andatevi a fare un giro nella mappa di Urbano Monte, che vengono fuori delle belle cose. Quindi, sostanzialmente, poi, oggi, se andiamo a cercare la Frieslanda, ovviamente, non la troviamo, perché oggi la Frieslanda non esiste più, in un certo senso. Come tante altre cose che non esistono più su questa terra, che, purtroppo, non so se sono state volutamente tolte, se sono state cose che sono andate, ma, in questo caso, sono riportate in mappe antiche, ma noi non ne sappiamo niente. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Fra l'altro, vi ricordo che trovate la playlist con il macro tema Grande Tartaria, perché è un filone a parte, che poi guardate anche sempre i sottotitoli. Poi, all'interno, trovate anche sempre qualcosa di interessante. E lo facciamo un lunedì sì e un lunedì no, per chi vuole seguirci in diretta con Tom e Adrian e tutte le nostre ricerche, che, avendo anche poco tempo, facciamo in diretta, perché noi ci saremmo comunque sentiti per consultarci. Guarda, ho una teoria, ho una pista, ho una strada, dimmi se ti risuona. Ecco, questo è sempre, è spesso l'inicipi di qualche telefonata. E questa volta lo facciamo in diretta, prendendo pezzi, commentando, prendendo foto, prendendo video, partendo da un'ipotesi. E questo viaggio lo facciamo insieme, quindi grazie a chi le decide di farlo con noi, sempre qui su Facciamo Finta Che. Arriviamo alle conclusioni e ai saluti finali. Tom Bosco, partendo da te. Conclusioni? Conclusioni? Non ci sono conclusioni. È un viaggio, un magnifico viaggio che stiamo facendo insieme. Anzi, per me è molto stimolante, perché grazie anche ai vostri rispettivi contributi, poi le mie ricerche possono, anche con i contributi di chi ci ascolta, appunto, di chi ha voluto scrivermi via email e mandarmi suggerimenti, materiali, lo ringrazio ancora. Che dire? Niente, il viaggio continua, come l'ho già detto e non mi stancherò mai di ripetere, che questo è un argomento grande come un iceberg, che io, parlo per me, ho appena cominciato a scalfire con l'unghia del mignolo, tanto per darvi l'idea quanto è vasto, io continuo a trovare nuovi spunti, nuove riflessioni, e anzi, al prossimo appuntamento, adesso c'è una cosa che mi ha colpito molto, stasera non l'ho neanche accennato, ma la prossima volta credo che sia giunto il momento di buttarla sul piatto per sentire cosa ne pensano i nostri spettatori, cosa ne pensate voi, faremo qualche riflessione sopra, ma ne riparleremo fra quindici giorni, diciamo. Molto volentieri, grazie mille Tom. Adrian, a te i saluti finali. Io ringrazio tutti, guarda, sinceramente sono pienamente d'accordo con Tom, perché io ogni tanto lo chiamo in preda, chiamo anche te Giallu, in preda diciamo alla follia che ho visto questo, ho scoperto quello, ho scoperto l'altro, e poi chiaramente queste sono campane, diciamo, detto tra di noi, che suonano tra me e me, quindi io ve le propongo e se mi date del pazzo mi faccio una risata, però è chiaro che sono felice di condividere quello che sto facendo perché per me è già un sogno condividere qualcosa che magari una volta potevo fare un solo da solo, diciamo, dentro casa, quindi stare qui insieme e passare due ore con Tom, Gianluca e tutti voi che ci raccontiamo cose dell'altro mondo, per me è fantastico, quindi grazie ancora. Fai un saluto, fai il tuo consueto saluto finale, Adria. Beh, restate svegli. Tom. Lunga vita e prosperità. E io vi do l'appuntamento a tutte le nostre prossime puntate, cercate e facciamo un fintaccheo ovunque, abbiamo anche il canale TikTok, abbiamo anche il podcast su Spotify, grazie a Cappellaio Matto, a proposito di gente matta che mi ha contattato dall'Irlanda per questa fantastica iniziativa, un abbraccio a tutti quanti, abbonati, sostenitori, chi mette like, chi condivide, vi voglio veramente un sacco bene, grazie di tutto, a tutti, appuntamento alla prossima, Ari Krishna, come sempre, grazie. Grazie a tutti.